Io vi dico solo quello che penso, condivido con voi in maniera molto sincera e schietta i miei pensieri, io penso che se succederà veramente che i paesi della Nato cominciano a spedire le proprie truppe in Ucraina, a tutti gli amici italiani che non vogliono fare la guerra, io consiglio fare i bagagli e andare via proprio dall'Europa occidentale, scappate via da qui, andate in Medio Oriente, in India, in Indocina, dove volete, ma non rimanete qua. Per quale motivo? Primo, è molto probabile che questa guerra, se entrerà in questa fase, ci porterà veramente verso l'utilizzo delle armi nucleari e questo sarà l'Apocalisse e il suo centro sarà qua in Occidente. Non saranno colpiti i statici d'America, sarà colpito l'Occidente, perché l'Occidente, l'Europa occidentale, perdonatemi, sarà scelta, è già stata scelta come un grande campo di battaglia per l'ennesima volta nella storia, è stata scelta da vari poteri per essere sacrificata a questa specie dell'ennesima Apocalisse che loro vogliono scatenare per delineare i loro poteri nel globo. Quindi, prima, ripeto, primo motivo per il quale dovrete fuggire nel caso se la NATO interverrà in Ucraina, dovete scappare dall'Occidente, e la minaccia nucleare. Secondo motivo è il fatto che tutti voi diventerete la carne da macello, così come succede in Ucraina. Voi guardate Ucraina e dovete capire che se la NATO entrerà sul territorio ucraino con l'esercito regolare della NATO è finita, voi non siete più liberi cittadini, voi siete carne da macello, come è successo in Ucraina. Anche lì stavano persone e pensavano, ma sì, ma che se ne frega, ma quelli combattono là nel Donbass, io non ho scelto qua a Kharkiv, a Lvov, a Kiev, e non mi succederà niente, la guerra è lontano. Poi cosa è successo? I russi hanno massacrato tutti i militari professionisti, tra aprile e maggio l'Ucraina ha perso tantissimi uomini, sono stati portati i mercenari dei paesi occidentali, sono stati portati i nazisti, nazionalisti, gli estremisti, i terroristi, persino i terroristi dell'Isis sono finiti in quella tritta carne. Hanno portato chiunque, purché combattono per gli interessi delle anglosassoni. Sono stati massacrati pure quelli e ormai noi vediamo che da sei mesi da questa parte, in Ucraina, i ricluotatori catturano per strada la gente che non c'entra niente, i civili che non vogliono fare la guerra, li picchiano, li massacrano, li torturano e li costringono con la forza, con la minaccia di galera, di andare a combattere contro i russi. La stessa cosa succederà con voi, cari amici, con cittadini dell'Occidente, perché quando la Nato entrerà in Ucraina, primi di andare là saranno i militari della Nato, quelli che lo fanno per mistiere. Quando saranno massacrati i militari, perché i russi comunque li maceneranno, questa è una cosa sicura al 100% che i russi continueranno a massacrare tutto quello che arriva contro di loro dall'Occidente. Questa è la storia, la matematica, loro hanno risorse, noi non abbiamo risorse, loro hanno gli uomini, loro sono di più, noi siamo di meno, loro sono più motivati, noi non siamo più motivati, i nostri giovani fanno i video dove ballano con culi nudi su TikTok, loro invece imparano da bambini a fare la guerra, quindi ci faranno un mazzo così, questo è poco ma è sicuro. Quindi i russi dopo aver massacrato tutti i militari della Nato, cominceranno a massacrare la seconda categoria di persone che verranno mandati contro di loro sempre negli uniformi della Nato. Chi saranno quelli? Saranno i nazisti europei, i volontari, saranno quelli vari sostenitori degli anglosassoni, sostenitori degli estremismi, tutti quelli che oggi stanno sul divano della mamma e pontificano su ciò che succede nella guerra, tutti quelli che non vedono loro di sparare un russo, finiranno pure loro, avranno loro la loro ora stellare, gli daranno un fucile, gli indicheranno dove bisogna andare, li metteranno sopra un carro armato e loro andranno nella direzione delle linee russe, verranno massacrati pure quelli, è questione di solo tempo. Quando massacreranno questa carne da macello composta dagli estremisti, da tutta questa schifezza, fecia ideologica, loro cominceranno a catturare per strada voi, gente che non volete sapere niente di guerra, che volete vivere serenamente in pace, che magari non sostenete neanche questo sistema, ma tanto a questi non importerà niente. Cittadini europei? C'hai passaporto italiano? Sei uomo? Non hai ancora 90 anni? Per noi va bene, anche se hai problemi di salute, chi se ne frega, prenderai armi in mano, andrai là a morire per gli interessi delle anglosassoni. Quindi, cari amici, se la Nato veramente entrerà a gamba tesa nella guerra in Ucraina, ufficialmente con mezzi militari, con riparti militari, con le divise e così via, il mio consiglio a voi è quello di fare le valigie, vendere le case, scappare da qui, perché questo territorio non sarà più casa vostra, questo territorio sarà trasformato in una grande tritacarne degli uomini destinati a essere sacrificati sull'altare della guerra per gli interessi dei poteri anglosassoni, grazie anche e con la complicità dei nostri politici corrotti che ci rappresentano. Queste sono le mie idee, io condivido con voi, ripeto, quello che penso io personalmente. Grazie carissimi per essere stati qui con me, vi invito di condividere i miei video, di commentare i miei video, vi invito di iscrivervi al mio canale, vi ricordo che è uscito il mio nuovo libro che si chiama La guerra e l'odio, è il terzo libro della trilogia dedicata alla guerra in Ucraina, lo troverete in tutte le librerie, fatemi poi sapere cosa ne pensate dopo averlo letto. Vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene.